Ho preso le chiavi Ciao a tutte Allora Questo vlog inizia proprio A metà giornata Perché oggi è Il giorno tanto Tanto atteso Perché è il giorno del vlog Me la sto facendo sotto Cioè proprio nel vero senso della parola I nostri outfit Io mi sono messa questa maglietta Che ha questo Questo nudo dietro Sono veramente con l'ansia Cioè tipo potopon potopon L'ansia più grande è quella di non Io non ho salutato L'ansia Ho veramente l'ansia che non ci sia nessuno Ciao a tutti Grazie 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 a tutti